Cambiamo argomento, le Dolomiti proclamate all'unanimità dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Finora in Italia il riconoscimento era stato assegnato solo alle Isole e Oli. Nove gruppi dolomitici per un'estensione complessiva di 142 mila ettari, qui si aggiungono altri 85 mila ettari di aria e cuscinetto per un totale di 231 mila ettari suddivisi tra le province di Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone e Udine. Questo è il nuovo patrimonio dell'umanità sancito all'unanimità dall'UNESCO oggi a Siviglia. La candidatura delle Dolomiti era arrivata in Spagna forte del parere positivo espresso nelle scorse settimane dall'IUCN, l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, l'organismo internazionale incaricato di esaminare in prima istanza le candidature dei beni naturali UNESCO. Sinora in Italia il riconoscimento come bene naturale era stato assegnato solo alle Isole e Olie, mentre il bel paese è la nazione a detenere il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità con 43, seguita dalla Spagna con 40 e dalla Cina con 37. Un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO è un luogo specifico, naturale o artificiale che è stato scelto per il programma internazionale dei patrimoni dell'umanità, amministrato dall'UNESCO allo scopo di catalogare, indicare e preservare siti di eccezionale importanza, sia naturale sia culturale, che possono essere considerati patrimonio comune dell'umanità. I siti elencati possono ottenere finanziamenti dal World Heritage Fund a certe condizioni. Secondo l'ultimo aggiornamento effettuato nella riunione dell'UNESCO nel luglio 2008, la lista è composta da un totale di 878 siti, di cui 679 beni culturali, 174 naturali e 25 misti, presenti in 145 nazioni del mondo. L'inserimento delle Dolomiti nella lista del patrimonio naturale dell'umanità costituisce il coronamento della politica di tutela ambientale perseguita dalla provincia di Bolzano. Lo affermano in una nota il presidente della provincia Luis Durwalder e l'assessore all'ambiente Michle Leimer, quest'ultimo presente a Siviglia per seguire i lavori del Consiglio Mondiale UNESCO. Il territorio riconosciuto degno di tutela UNESCO in ambito alto tesino comprende quattro dei parchi naturali e la gola del Bletterbach già tutelata da anni. Grazie. Grazie. Grazie.